Una bella storia di solidarietà tra colleghi ci arriva da Piazzetta Porta Sant'Andrea all'edicola di Porta Trento Trieste alle mie spalle. La proprietaria è all'ospedale perché è malata e allora la collega Corina che gestisce già l'edicola di zona Giotto ha in questo momento deciso di sostituirla gratuitamente. Ci facciamo raccontare la storia proprio da lei. Ho sostituito la proprietaria. Ma lei ha già un'edicola nella zona Giotto? Piazza Giotto, il figlio mi ha dato questo permesso, mi ha permesso di venire su a tenere aperto l'edicola della Laura e Edoardo, mio figlio Edoardo Franchi pensa a gestire Piazza Giotto. Come le è venuta in mente di accettare questa che è una sfida perché in fondo lascia la sua edicola, ci lascia il suo figlio, giovane? È stato un istinto, senza pensare senza niente. Mi ha parlato prima di collaborazione fra colleghi, affetti. Io e Laura siamo buoni collaboratrici da anni, un buon rispetto. Quindi anche un sentimento di affetto. Un sentimento di affetto, brava. Io ho ricevuto tanto dalla vita, anche da Piazza Giotto, dagli abitanti. Sono stata tanto aiutata sicuramente per questo mi viene spontanea. Ed eccoci all'edicola della zona Giotto, quella che adesso è in mano a Edoardo, figlio di Corinna. Sì, è una cosa di solidarietà perché la Laura è sempre stata un'amica e è sempre stata quando la mia mamma ebbe un incidente, lei venne subito a dare il cambio, quindi è stato anche un motivo di cuore. Poi la Laura, ovviamente si spera che ritorni presto, però finché ci siamo noi se la può prendere anche con calma, diciamo.